ecco due e così vi trovate uno smartphone e volete diventare degli youtuber beh ho delle buonissime notizie per voi molto probabilmente potete munitevi di sgancio, sfrisa telefoni e ovviamente del treppiedino da 10 euro della masfrino a questo punto posizionatelo e aspettate che un telefono arrivi e si agganci lì velocissima scarrellata sui parametri dove dovete mettere assolutamente la qualità maggiore di tutte mettere ovviamente un watermark, disattivare tutti gli aiuti da professionista andare fuori e mettere la modalità bellezza al massimo e assolutamente zoomare un pochettino perché volete far fuori quella cazzo di grandangolare che fa video veramente schifosi ed ecco qui che state registrando la vostra prima recensione roba di cui vi pentirete amaramente anni dopo il fatto è che sì siete lì che guardate il vostro girato e a un certo punto notate effettivamente c'è qualcosa di strano e quindi ci pensate molto attentamente ma proprio non riuscite a capire al che ha una certa la soluzione dopo attente ricerche su youtube avete trovato quello che vi serviva però adesso bisogna trovare la sua versione craccata che casualità eccola qua ai loot voi non dovete far altro che starvene fermi e zitti e all'inizio di ogni video trascinare questa piccola formula magica attascabile dentro il vostro video esattamente così ecco questo dovrebbe dimostrarvi che nella vita non serve a niente impegnarsi tanto c'è qualcun altro che l'ha fatto per voi appunto i loot sono delle configurazioni colore che assolutamente faranno sembrare il filmato della vostra action camera da 50 euro scusate sì 50 euro ho detto eccomi qua una cosa fantastica fidatevi di me sono uno squalo dell'IKEA è è è è è è